Sì, abbiamo fatto una buona partita, l'avevamo preparata bene in difesa soprattutto perché la loro forza era l'attacco, era principalmente l'imbeto, che alla fine ha fatto gol solo sul rigore e in un paio di occasioni ha fatto un po' per le completazioni. Riccardo è stato bravissimo, ha fatto una difesa eccezionale, l'attacco abbiamo dato tutto, abbiamo fatto qualche errore, ma insomma alla fine ha 18 punti, ha 19, il primo set comunque stava tirato, il secondo abbiamo provato, abbiamo avuto la palla finale, mancava pochi secondi, tiro franco, gol di gol, hanno preso palla loro, sono più alti e con i centimetri non ci si fa niente. Sì, ora purtroppo abbiamo il giro di consolazione e dobbiamo ora andare a vedere il programma perché ancora non sappiamo niente, speriamo di fare almeno una vittoria perché abbiamo fatto tante partite anche prima, ogni pomeriggio con la Polonia abbiamo fatto un buon risultato, abbiamo perso un set di uno, uno di due, abbiamo giocato un pochino peggio, sempre bene in difesa, molto peggio in attacco, abbiamo un coltere molto forte, ci ha messo in crisi. Il fischio non ci ha aiutato, stasera invece è stato tutto perfetto, il pubblico, la squadra avversaria, gli arbitri, è veramente una bella serata, peccato, almeno agli showtime volevamo arrivarci.